Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto. Apriamo con il calcio. La terza giornata del campionato di Serie C propone sicuramente come una delle partite più interessanti il derby di Livorno tra Livorno e Lucchese. Lucchese ha lavoro in vista della trasferta di domenica sera ore 20.30 a Livorno in uno dei derby più sentiti della stagione, naturalmente Pisa a parte. All'acquedotto Lopez sollecita la squadra anche perché sa che quella del Picchi sarà gara dura ed intensa. Rispetto alla formazione che ha battuto il Ponte d'Era si profila una sola ma importantissima novità, il rientro in mediana di Nicola Mingazzini. L'esperto mediano, classe 1980, prenderà il posto del giovane Damiani che pure contro i Valderesi ha ben figurato. Ma quella di domenica sera è partita dove la classe e l'acume tattico del Minga saranno fondamentali. Lopez la inquadra così. Aspetto un Livorno forte, un Livorno arrabbiato, un Livorno che vorrà vincere la partita ma troverà dall'altra parte una Lucchese organizzata, ben messa in campo, con giocatori motivati, che gioca un buon calcio e ha guerrita anche lei. Da aggiungere che Cecchini ha ripreso a lavorare in gruppo ma dovrebbe andare in panchina mentre rivedremo Nolè solo fra una settimana. Intanto anche la tifoseria si sta mobilitando e dovrebbe seguire in buon numero la squadra nel derby dell'Ardenza, che non vede la Lucchese vintoriosa da ben 28 anni. Scendiamo in Serie D, il tecnico del Seravezza, Walter Vangioni, è venuto a trovarci in sede e in questa intervista fa il punto sulla partenza della sua squadra ma più in generale anche sul campionato. Walter Vangioni, allenatore del Seravezza, intanto un buon debutto in categoria. Prima giornata, prima vittoria. Sì, è stata una gara importante per la nostra società perché era la prima partita nel campionato nazionale di lettanti, siamo riusciti a battere un avversario molto ostico e siamo contenti, ora ci prepariamo per la prossima gara. La prossima gara domenica allo Scandicci, che domenica scorsa è stato battuto dal Ghibborgo e che quindi ha modo anche di divisionare. Che partita ti aspetti? Sarà una partita difficile perché loro vengono da una sconfitta col Montecatini in Coppa dove sono stati eliminati, vengono da una sconfitta col Ghibborgo, perciò sarà una partita difficile contro un avversario molto forte e dobbiamo farci trovare pronti nonostante qualche problemino di organico che abbiamo in settimana perché abbiamo perso un ragazzo per un po' di tempo, Portoletti, che ha avuto un'infortuna domenica scorsa, più abbiamo Begollo tutto l'anno fuori, perciò dobbiamo compattarci e farci trovare pronti perché questo campionato qua è un campionato che non puoi rilassarti un attimo perché le squadre sono tutte forti. Un'ultima cosa, domenica c'è anche il primo derby, già la seconda giornata, via Reggio Ghibborgo, come lo vedi? Conosco tutte e due le squadre, sono due squadre della zona, Ghibborgo forse ha costruito una squadra di spessore molto alto, sicuramente sarà leggermente favorita, però ho visto il via Reggio due o tre gare amichevoli e mi ha fatto un'ottima impressione, è organizzata bene dal mister, giocano bene sotto palla e sarà una bella partita e diciamo nei giorni successivi a domenica la vedrò. Calcio giovanile riprendono gli Open Day della Scuola Calcio Inter del Tau Calcio a Topascio, sabato 9 settembre dalle 11 alle 12 e 15 le porte del centro sportivo Sandro Vignini di Vittorio Tosto a Lucca si apriranno per accogliere gli aspiranti calciatori nati negli anni 2010, 2011 e 2012. La nazionale di hockey su pista non smentisce la tradizione che la vede spesso in difficoltà nei quarti di finale, parliamo dei campionati del mondo, ma questa volta gli azzurri di Mariotti sono perfetti ai rigori e si qualificano per la semifinale che affronteranno venerdì alle 16 e 30 locali, le 10 e 30 in Italia. Grandissimo protagonista del quarto di finale contro il Cile, la nazionale italiana ha vinto 6 a 3 dopo i tiri di rigore, è stato il portiere della nazionale del CCC Viareggio, Leonardo Barozzi, è stato davvero protagonista parando un paio di tentativi dei cileni. Siamo al basket davanti ad un bel pubblico, la Gesan Lemura Luca, campione d'Italia, superato in amichevole Broni 93 col punteggio di 87 a 56 nella prima di due amichevoli che vedranno appunto affrontarsi le due squadre, come per l'amichevole contro San Giovanni Valdarno, i due coach Sacchi e Barbiero hanno scelto di giocare 4 tempi, azzerando lo score alla fine dei 10 minuti canonici. Luca è sceso in campo con quello che possiamo considerare lo starting 5 titolare, Battisodo, Crippa, Dramme, Roberts e Udo Dienco, quindi in campo contemporaneamente le tre nuove straniere che sono andate molto bene nelle fila di Broni, Lex, Gatti e Voita, da segnalare i 22 punti della Dramme e i 12 della Udo Dienco. Prossimo appuntamento domenica contro la Stanford University in occasione del Memorial Barbara Costa, tutto questo in preparazione del primo impegno ufficiale della stagione, il primo trofeo il 24 settembre al Paratagliate di Lucca, Lemur a Schio per la Supercoppa Italiana. Siamo ormai alla vigilia, a poche ore, alla partenza del 22esimo giro della Toscana internazionale femminile di ciclismo. Tre giorni di spettacolo, di sfide per stabilire chi sarà la nuova granduchessa di Toscana e chi riuscirà a scrivere il proprio nome in un albo d'oro a dir poco mondiale. Nella scorsa edizione trionfò la campionessa sudafricana Ashley Mollman-Pasio che supportata da una squadra di altissimo livello, la Cervelo Bigla, cercherà di bissare il successo. Un weekend lungo, ricco di emozioni e iniziative di grande ciclismo per la 22esima edizione del Giro Internazionale Femminile della Toscana, grazie anche alla presenza di ben 22 squadre, 12 straniere e 10 italiane e oltre 160 atlete. Le nazioni rappresentate saranno ben 25, 257 km da percorrere per un Toscana che inizierà venerdì 8 settembre con il cronoprologo di Campi Visenzio, proseguirà sabato 9 con l'impegnativa Segromigno-Piano-Porcari-Segromigno-Piano e si concluderà domenica 10 con l'insidiosa Lucca Capannori. Attenzione all'ultima frazione perché è stata allungata e resa più difficile e accattivante, grazie all'inserimento del secondo passaggio da Valgiano, uno strappo posto a pochi chilometri dall'arrivo capace di fare la differenza e magari di decidere il Toscana 2017. Come sempre il Giro è dedicato all'indimenticabile campionessa Michela Fanini, l'organizzazione affidata alla società di Papà Brunello. A questo proposito il Comune di Lucca ha deciso di intitolare una pista ciclabile lungo uno delle arterie più importanti della città. La manifestazione si svolgerà poco prima della partenza dell'ultima tappa, in Viale Castruccio-Castracani alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini e di tutta la carovana rosa. L'Atletica, importante appuntamento sabato pomeriggio a Dalmine in provincia di Bergamo per il gruppo podistico Parco Alpi Apuane con i 10.000 metri su strada validi per l'assegnazione del tricolore Master e come terza prova del campionato italiano assoluto di corsa su strada. Il team bianco-verde del presidente Graziano Poli, che sarà impegnato anche nella gara Master, vuole consolidare il secondo posto assoluto a livello italiano dietro alla blasonata Atletica Casone. Siamo al karate, atleti lucchesi in evidenza al 32esimo Open Mondiale di Lignano. Nel comité Andrea Bozzi, 55 kg, ha conquistato la medaglia d'argento negli esordienti A. Bronzo per Nicola Nottoli, 61 kg. Anche lui lucchese nel Catà, individuale categoria juniores femminile. Agnese Fanti di Ponta Serchio ha conquistato il bronzo. Infine il team Catà, composto da Francesca Piccinini, Rebecca Bozzi e l'area bianchi, nella juniores femminile si è giudicata la medaglia di bronzo. Competizione a squadre, dove queste ragazze hanno dimostrato tutto il loro valore. Tradizionale appuntamento, vieni con noi al Circolo Tennis Lucca di Vicopelago. Parliamo di tennis appunto da venerdì 8 a domenica 10, dalle 15.30 alle 18.30. Manifestazione a conclusione del progetto Racchette di Classe. I maestri del circolo e alcune giocatrici della squadra femminile ne ho promossi in A1. Impegni di gare permettendo, saranno a disposizione per tutti i giovani dei 4 a 14 anni, che vorranno giocare a tennis. Inoltre dal 25 settembre avrà inizio la scuola tennis standard school fit per bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni, mini tennis, avviamento, perfezionamento e agonistica. Ed è tutto per quanto riguarda la pagina sportiva. Una breve pausa pubblicitaria e subito dopo il Tg torna con la terza ed ultima parte.